I'm the realest one that's rapping, oh my god, oh my god, if I die, I'm a lead, and when they lay me down, I rap, I know I was always rapping Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti dal vostro Dark House 92 Oggi siamo qui perché vi volevo far vedere dove si trova la stella da cerca tra un osi, un'arcata di pietra e dinosauri Quindi mi raccomando seguite il nostro consiglio che vi troverete tutti bene Comunque ci buttiamo col paracadute e ci vediamo tra pochissimo Eccoci qua ragazzi buttati con il paracadute per farvi vedere appunto dove sta la stella della missione, ok? Dove vedete il rosso stiamo scendendo per farvi vedere appunto la posizione di questa fatidica stella Mi raccomando, mi raccomando perché ragazzi in questo momento avete sentito anche la voce del signor RDT Che purtroppo non sa che stiamo registrando però dettagli Ma nel frattem... Vabbè ragazzi un like per RDT che sta qui con noi e sta salutando voi Bella, mi raccomando se non lasciate like vi viene una cacarella a spruzzo e so cazzi Quindi vediamo un po' la stella, eccola qua, speriamo che riusciamo a prenderla perché c'è troppa gente Ok dovrebbe essere qui la stella guys, qui la stella Tutti a me mi sparano, eccola qua la stella guys, presa la stella e niente la stella si trova là sopra Precisamente il punto è qui e qui la stella guys Vedete la stella è qui? Ora io sono morto però comunque la stella avete visto già dove si trova Vi raccomando ragazzi di lasciare un bel like se non vi viene una cacarella a spruzzo E se arriviamo a 100 like in questo video domani qualcuno vi regalerà 100 V-Bucks, 1000 V-Bucks ragazzi Ok? Un bacione dal vostro video a casa 92 e noi ci vediamo alla prossima Ciao belli! Vi voglio bene! Bella raga!